Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle verdure di stagione, scopriremo quali sono, quali sono i prezzi che stanno andando per la maggiore e soprattutto come utilizzarle, come conservarle, fanno davvero bene a tutti. Ne parlerò nel corso della trasmissione con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti e con la dottoressa Giulia Vincenzo, biologa nutrizionista. Come sempre, siamo in diretta, se volete fare le domande, volete porre dei quesiti ai nostri ospiti, c'è Maris per voi. Eccomi qui pronta a fare da tramite, insomma, traghetterò tutte quante le vostre domande e gli esperti, quindi siccome siamo rigorosamente in diretta, non chiamate, ma scrivete al nostro numero 340-880-1035. Tramite questo numero potete scrivere su WhatsApp o se preferite potete anche scrivere alla mail vediamoci chiaro, chiocciolatv2000.it e mi raccomando seguitici e condividete tutto anche su Facebook, Instagram ed X. Io partirei dalla dottoressa Vincenzo perché vorrei capire, dottoressa, ma la stagionalità, quanto è importante anche, poi ne parleremo anche con Bazzana, ma per la nostra salute, cioè seguire un po' il flusso, la stagione, siamo un po' dimenticati tutti, i nostri nonni erano molto attenti a tutto questo, le nostre mamme, ora si è un po' perso, però è importante, perché? Per la nostra salute? Assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti, perché la natura ha pensato a tutto, lei fornisce nelle varie stagioni quello che ci serve per il nostro sostentamento, vitamine di tipi diversi, acqua, idratazione, purtroppo adesso con l'economia che abbiamo e con la coltivazione in serra abbiamo tutto, tutto l'anno, però è molto più conveniente mangiare cose di stagione, uno per il portafoglio, perché chiaramente è conveniente a quel livello, ma anche a livello nutrizionale, perché quello che esce adesso di stagione è quello che ci serve di più. Ecco, Lorenzo Bazzana, quali sono i prodotti di stagione? Anche a lei faccio la stessa domanda, è importante, lo sottolineava anche la dottoressa, pure per un fatto economico, perché possiamo cercare anche di risparmiare, ma non solo, quindi dobbiamo seguire questa stagionalità e ora che cosa ci propone la natura? La stagionalità è una parola grossa, nel senso che noi abbiamo un paese fortunato, che è un paese che si sviluppa su un piano longitudinale e latitudinale, molto particolare, è un paese lungo e stretto, per cui dall'estremo sud all'estremo nord noi abbiamo un susseguirsi comunque di stagioni e poi abbiamo diversi piani altitudinali, dal piano del mare a quello che possono essere in alto in montagna. Quindi il nostro paese è in grado comunque 365 giorni all'anno di dare prodotti di stagione e anche la coltivazione in serra, dove non sia serra riscaldata, è chiaro che è semplicemente un apprestamento protettivo che aiuta a difendere ad esempio le culture. Sappiamo che molti di questi ortaggi sono molto delicati e se ci piove sopra possono avere dei problemi. Noi con le coltivazioni in cultura protetta riusciamo a difenderli senza bisogno di utilizzare antiparassitari. Diamo qualche anticipazione e poi ci soffermeremo. Quali sono le verdure di stagione e qual è l'andamento dei prezzi? Io le chiedo sempre questo per cercare di capire se quest'anno bisogna stare maggiormente attenti a qualche prodotto in particolare. Le verdure di stagione ovviamente sono quelle che in questo momento stanno uscendo dalla coltivazione protetta, nel senso che più noi andiamo avanti con la stagione e quindi vediamo che le zucchine, i pomodori, le melanzane escono dalle coltivazioni protette delle serre per acquistare il pieno campo. Stanno arrivando prodotti come ad esempio i meloni e le angurie che sono ancora nei tunnelini. Quindi man mano che la stagione va avanti abbiamo questo fiorire di coltivazione all'esterno. Dal punto di vista dei prezzi è chiaro che c'è un aumento dell'offerta, per cui l'aumento dell'offerta con la bella stagione dovrebbe portare a un contenimento di quelli che sono i prezzi, ma attenzione perché ovviamente questo clima pazzo può in ogni momento ridurre l'offerta e modificare quello che stiamo dicendo. Dottoressa, le verdure nella dieta quanto sono importanti? Le sottovalutiamo, le accantoniamo, preferiamo e privilegiamo magari i carboidrati rispetto alle verdure, però questo è un male, lo dico in prima persona perché pure io sono poco attento a questo, però fanno bene, in che modo? Sono essenziali per un sacco di ragioni. Uno per quello che fornisco nel livello nutrizionale, quindi vitamine, sali minerali e fibra, però aiutano anche a perdere peso perché se io mangio la verdura prima del pasto, quindi a inizio pasto, io mi sazio prima perché la fibra che contiene la verdura, uno mi fa volume nello stomaco e quindi sono più contento di mangiarmi comunque un pochino meno pasta se devo dimagrire e due la fibra mi aiuta a trattenere calorie, carboidrati e anche colesterolo, quindi le assorbo un pochino meno, è proprio un trucchetto questo. E l'abbinamento carboidrati e verdure è un abbinamento giusto? Giustissimo, più una proteina e il pasto è fatto. Maris? Ci chiedono, Bazzana, appena arrivati a casa, quale verdure che abbiamo acquistato, dove le mettiamo? In frigo o fuori dal frigo? Beh, è chiaro che qui abbiamo tante verdure differenti. Uno degli errori più comuni che vengono effettuati è quello ad esempio di mettere i pomodori al freddo, in frigorifero. I pomodori per poter sprigionare tutti i loro sapori, tutti i loro aromi, devono rimanere a temperatura ambiente. Non c'è un grosso problema di conservazione del pomodoro, anche perché noi dobbiamo stare attenti quando facciamo la spesa di non pensare poi per delle settimane di conservare questi prodotti. È chiaro che invece, ad esempio, gli ortaggi a foglia sono molto più delicati e questi dovremmo conservarli in frigorifero. Quindi fare sempre attenzione a quello che è la tipologia di prodotto che abbiamo portato a casa e fare attenzione a quelle che possono essere le contaminazioni incrociate, ovvero sia gestire lo spazio del frigorifero in modo tale che non ci sia il rischio che magari un ortaggio sporco che abbia ancora della terra possa andare a contaminare altri prodotti che sono contenuti nello stesso spazio. Quindi utilizzare contenitori, utilizzare sacchetti, separare in base alla tipologia di prodotto e alle temperature. Questa è sicuramente una regola da seguire sempre. Come cucinare questi prodotti? In che modo? Vi diamo un suggerimento, un primo suggerimento. Ci colleghiamo con la Puglia, con la splendida terra pugliese, in particolare con Altamura, dove c'è un cuoco contadino della Coldiretti, Vito Tafuni, che salutiamo e ringraziamo. Lo vediamo lì, uno splendido, veramente uno scenario meraviglioso. Allora, le chiedo subito che ricetta la prima ci ha preparato e ha pensato da poter suggerire a casa. Allora, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, innanzitutto benvenuti a casa mia. Siamo ad Altamura, in provincia di Bari. La ricetta di oggi che vi volevo proporre è fave e cicorie ripassate con della cipolla e del peperoncino. Quindi le fave e le cicorie le ho sbollentate in precedenza, le ho tirate in acqua, in acqua ghiacciata, per conservare meglio le proprietà organolettiche. Quindi mettiamo a scaldare dell'olio. Nello stesso tempo affettiamo un po' di cipolla. Ecco qua. In abbinamento ci mettiamo anche del pane di Altamura, facciamo dei crostoni di pane. Nel frattempo che la cipolla appassisce ci mettiamo già del pane a tostare. Noi stiamo guardando con grande attenzione. Utilizziamo proprio questi ingredienti. Ok, ok, grazie. Dicevo, utilizziamo proprio questi ingredienti perché rappresentano la stagionalità. Le fave, le cicorie a bacchetta le troviamo solamente in questo periodo, le fave fresche. È un piatto che possiamo mangiare tutti i giorni dell'anno, però negli altri periodi le fave le troviamo solamente secche. Ecco, mentre lei sta finendo di cucinare... Allora, l'olio è caldo. Ecco, ora, mentre lei finisce la ricetta, io chiedo alla dottoressa, allora, questo crostone con fave e cicoria è un abbinamento giusto, dottoressa, in studio? È un piatto completo perché le fave sono legumi, la cicoria è verdura e la base del crostone delizioso sono carboidrati. Quindi assolutamente sano, nutriente e super buono sicuramente. Quindi Taffuni, promosso a piedi voti, ci dica come sta finendo questa ricetta, ce la racconti però. Grazie, grazie. Certo, allora, come ripartiamo dall'inizio. Ho bollito le cicorie e le fave in acqua separata, in maniera da non contaminarsi tra di loro. Le ho raffreddate in acqua e ghiaccio per conservare al meglio il verde, delle verdure. E adesso le stiamo ripassando in cipolla, olio, cipolda e peperoncino. Io ho già fame. Ecco, ci faccio vedere, possiamo vederlo, questo crostone. Le bruschette sono quasi pronte. Ecco, ci faccio vedere il crostone perché poi ci devi preparare un'altra ricetta dopo. Ci accingiamo. Certo. Ecco qua. Ecco, un piatto semplice ma completo, come diceva la dottoressa Vincenzo in studio. Ecco, ce lo mostri? Perfetto. Filo d'olio a crudo. L'olio extravergine d'oliva non deve mai mancare, chiaramente. Filo di olio a crudo. Non deve mai mancare, siamo in Puglia. Ecco a voi, buon appetito. Grazie, grazie al cuoco contadino. Vito Tafuni, ci vediamo tra qualche istante. Poi è uno scenario bellissimo. Stiamo vedendo dietro, si vede questo verde che ci invita davvero a tante belle scampagnate. Chiedo invece a Bazzana, ci ha detto prima i pomodori, però come conservare per esempio cose un po' più complicate, tipo le melanzane, vedo anche le zucchine, i finocchi. Come la conservazione migliore è sempre in frigorifero ma in che modo? No, ma sempre le melanzane, i pomodori, volendo anche le zucchine possiamo conservarli anche a temperatura ambiente, dipende per quanti giorni, ovviamente le zucchine sono un pochettino più delicate. Dal punto di vista della spesa noi dovremmo sempre fare una spesa contenuta e ripetuta nel tempo, nel senso che non possiamo pensare soprattutto per ortaggi delicati di fare una spesa che ci possa durare dieci giorni o di più. Quindi facciamo acquisti ripetuti nel tempo con i prodotti che vengono portati sui mercati e raccolti quotidianamente in modo da avere la massima esaltazione della freschezza, delle proprietà nutrizionali e quindi poterne godere appieno. Questo è il vero segreto e soprattutto contenere anche lo spreco perché facendo una spesa molto abbondante e poi avendo problemi nel riuscire a gestire quello che è il frigorifero e la conservazione di questi prodotti rischiamo di aumentare lo spreco e quindi di buttare via e spendere dei soldi per niente. Dottoressa, carote, pomodori, zucchine, meglio crudi o cotti? Da un punto di vista proprio della nostra nutrizione e della nostra salute, come dobbiamo mangiare nel miglior modo? Allora, i finocchi sono un pochino più digestivi quando sono crudi, sono un po' più delicati e carminativi quando sono cotti. I pomodori quando sono crudi contengono più vitamina C perché termosensibile si rovina un po' con la cottura però rilasciano più licopene con potentissimo antiossidante da cotti. Le carote hanno un indice glicemico quindi un rilascio di zuccheri più basso da crudo e ovviamente staziano anche un po' di più. Da cotte sono più dolci. Bene, ci sono delle differenze, quindi avete preso appunti a casa, spero di sì. Maris? Allora, volevo chiedere l'aiuto della regia per far vedere, insomma perché ci mandate anche delle foto, io le faccio analizzare ai nostri esperti. Allora, Lorenzo Bazzana, mi guardi un attimo questa foto che Antonella ha mandato, è una patata, ecco con un buco sarà capitato anche a voi di trovarle a casa. vuol dire, vorrei sapere se le patate con questi buchi, togliendoli, possono essere mangiate comunque, dice, comunque qualche giorno fa le ho cucinate ma avevano un gusto un po' amarognolo, indicativo di qualcosa? Beh, ovviamente laddove ci sono appunto degli attacchi a quello che può essere il frutto o l'ortaggio, noi dobbiamo esplorare, nel senso che dobbiamo tagliare questa patata, vedere quanto in profondità va al danno e quindi togliere la parte del danno. Noi siamo in un'economia dello spreco, in cui si tende a buttare via tutto. Io non dico buttiamo via tutta la patata, dico tagliamo, vediamo quanto va a fondo, cerchiamo di stare un po' più larghi perché appunto vicino a quello che è l'attacco parassitario o il marciume ci può essere appunto un'alterazione del sapore, ma non buttiamo via tutta la patata perché comunque possiamo salvare il salvabile. Certo. Dottoressa, quanto è importante per gli anziani il consumo di verdura, oltre che per i bambini? Ma diamo uno sguardo agli anziani che sono tra i nostri privilegiati telespettatori al mattino. Beh, certo, è tanto importante perché l'anziano tende a perdere più facilmente vitamine e sali minerali ed essere malnutrito, quindi sicuramente ogni età ricca gli ortaggi freschi di stagione dà un grande aiuto. Ma possono mangiarli tutti questi ortaggi? Oggi bisogna evitare qualcuno di questi, magari se uno ha dei problemi gastrointestinari o l'altro? Allora, per l'anziano in generale non ci sono indicazioni di evitare qualcosa in particolare. Ovviamente l'anziano che ha magari una di verticolosi, quindi delle piccole insenature nelle pareti dell'intestino, ovviamente eviterei quello che ha i semi, quindi i pomodori sono un pochino controindicati. Magari l'anziano che soffre di gastrite, che ha problemi proprio di digestione, anche qua il pomodoro magari un pochino meglio cotto, pur essendo molto ricco di antiossidanti preziosi. Pazzana, abbiamo visto quello splendido scenario della Puglia, ci torneremo tra qualche istante. Le chiedo, ma tutte queste verdure noi abbiamo una produzione italiana consistente? Cioè, se vogliamo privilegiare, come giusto che sia, anche il lavoro degli agricoltori italiani, come facciamo a capire se quelle carote, quelle zucchine, arrivano da un posto italiano oppure arrivano dall'estero? Beh, innanzitutto noi siamo uno dei principali produttori come paese di ortofrutta dell'Unione Europea, quindi noi siamo un paese esportatore. Nel corso degli anni abbiamo una radicata tradizione di fornitura ad altri partner europei, ad esempio la Germania o la Francia, sono i nostri mercati fondamentali. È chiaro che servono delle indicazioni. Dal punto di vista della normativa, tutta l'ortofrutta fresca ha un obbligo di etichettatura. Quindi, se sono prodotti confezionati, noi troveremo nell'imballaggio, sull'imballaggio, quindi la cassettina chiusa oppure il vassoietto con i quattro pomodori, le zucchine, eccetera, eccetera, ci deve essere un'etichetta che riporta dove è stato coltivato questo ortaggio. In alcuni casi ci sono anche altre indicazioni, come ad esempio la varietà, la categoria extra, prima, seconda, che ci dà un grado di qualità del prodotto dal punto di vista proprio dell'aspetto. Invece, se il prodotto è commercializzato allo stato sfuso, e quindi c'è il libero servizio, ognuno si prende il suo prodotto, nella esposizione ci deve essere un cartello che riporta queste stesse informazioni. Ove le etichette o i cartelli non fossero esposti, è nostro diritto chiedere e pretendere che vengano esposti, perché c'è comunque una norma che prevede multe salate per chi non espone queste informazioni. E allora ci rituffiamo nuovamente in territorio pugliese, provincia di Badi, siamo ad Altamura con il cuoco contadino della Coldiretti, Vito Tafuni, vediamo che cosa ci prepara come seconda opportunità. Allora, io vi ho preparato delle verdure alla griglia, ho messo tutto nel piatto, tutto quello che avevo, sulla padella, dicevo, scusate. Allora, ho grigliato del peperone, del peperone giallo, del peperone rosso, ho grigliato anche dei finocchi, li ho tagliati grossolani a crudo, senza sbollentarli, li ho solamente piastrati, ho utilizzato una piastra con delle venature, così il segno della griglia è più evidente, delle melanzane. E in ultimo ho aggiunto delle zucchine, eccole qua. Le possiamo condire a piacimento. Un attimo. Allora, ovviamente del prezzemolo, in abbondanza, un po' di sale, e in ultimo, sempre dell'olio, in maniera abbondante. A crudo fa bene l'olio. Ecco, un piatto peraltro coloratissimo. Ecco qua. Perfetto, è un piatto colorato e secondo me anche di gran gusto, facile da realizzare. Grazie davvero, la salutiamo, la ringraziamo. Il cuoco contenito della Coldiretti, Vito Tafuni, da Altamura. Quindi siamo in Puglia. Allora chiedo su questo piatto alla dottoressa, perché le abbiamo viste grigliate. Meglio grigliate, chiaramente rispetto al fritto, sicuramente. Però possiamo ogni tanto poi, no, prenderci questa licenza di mangiarle anche fritte. Però il piatto era veramente molto bello, colorato, e fa bene anche un piatto del genere. Esatto, più colori diversano le verdure, maggiore è la differenza di sostanze benefiche che riesco ad ottenere, perché ogni verdura colorata ha la sua caratteristica tipica. Ovviamente i metodi di cottura ce ne sono tantissimi, più o meno elementi le proprietà del prodotto. Però se noi riusciamo a fare una buona varietà, siamo coperti tranquilli e ci divertiamo anche. Baris. Allora, una telespettatrice chiede al nostro Bazzano, dice ok, ho sentito che non vanno messi vicini, una volta messe in frigorifero, le verdure acquistate per evitare contaminazioni e vanno riposte nei contenitori, nei sacchetti, ma è meglio lasciarli un pochino aperti? C'è un minimo di ossigeno che deve entrare nel sacchetto o sigillato? Ma assolutamente il sacchetto dovrebbe essere sigillato, dipende dalla condensa che si forma, nel senso che la condensa può essere un problema su alcuni prodotti perché può portare a delle muffe delle marce scienze. Ci sono dei sacchetti traforati che consentono di mantenere un livello di umidità adeguato per gli ortaggi che sono contenuti dentro, in modo tale da non avere la formazione di condensa, ma avere comunque il prodotto protetto dall'esterno per evitare che diventi troppo disidratato e quindi perda troppa acqua. Quindi dipende sempre ovviamente dal tipo di ortaggio. Noi stiamo parlando di tanti ortaggi differenti, ovviamente ci sono alcuni che sono più sensibili a quella che è la disidratazione. Dottoressa, il minestrone che vede tante verdure messe insieme, è qualcosa da mangiare non solo d'inverno, perché è tipico del periodo invernale, ma anche d'estate in qualche modo. È qualcosa che fa bene magari? Assolutamente sì. Continua un po' tutto? Siamo un po' noi che lo lasciamo sempre in inverno, in realtà anche d'estate, ma addirittura freddo è anche buono. È un piatto rinfrescante, è un piatto ricco, è un piatto leggero che non ci appesantisce col caldo, quindi certo. Ma nell'ambito della nostra dieta alimentare, nel periodo estivo, le verdure vanno mangiate quante volte a settimana? Tutti i giorni, almeno due volte, nei pasti principali. Teniamo presente che si parla di 400 grammi pro capite di ortofrutta al giorno, che sarebbero 5 porzioni secondo l'OMS, e noi purtroppo negli ultimi 5 anni come italiani abbiamo ridotto i consumi di 40 kg per famiglia, e questa è una cosa molto grave, perché dai 400 grammi, che era la dose minima sindacale, oggi siamo attorno ai 250-280 grammi, quindi siamo assolutamente deficitari, dobbiamo incrementare i consumi di frutta e di verdura, perché, ripeto, ne va della nostra salute. Allora, colgo questa indicazione che ci arriva da Bazzana, perché gli ultimi dati, anche sull'obesità infantile, abbiamo parlato prima degli anziani in maniera molto attenta, però i bambini, la situazione è abbastanza drammatica, dottoressa. Allora, diamo un suggerimento a casa, magari alle nonne o alle mamme che ci stanno ascoltando, come incentivarli? Perché i bambini non amano, anche i bambini un po' più adulti, non amano tanto le verdure. Com'è possibile incentivarli, ecco, per mangiare queste verdure? Allora, i consigli sono tre. Uno, dare noi l'esempio, cioè far vedere al bambino che lui dovrebbe mangiare le stesse cose che mangiamo noi, cioè io faccio vedere che mangio le verdure, anche lui sarà incentivato ad imitarmi, quindi uno. Due, coinvolgere nella preparazione, nell'acquisto, nella scelta, così diventa anche un po' un gioco, che poi il bambino, soprattutto se è piccolino, la prende come una cosa sua, l'ho preparata io, no? E quindi sicuramente sarà più incentivato a consumarla. E terzo consiglio, cercare anche un po' di nasconderle, cioè di metterle anche nelle polpette, nei sughi, quindi sicuramente abituarle anche un po' gradualmente al sapore e quindi rendere una cosa che poi già conosce. Di creare qualcosa, di costruire insieme ai bambini qualcosa, quindi incentivarli perché il problema dell'obesità è qualcosa di... È anche quello. È un problema veramente serio che bisognerà affrontare. Maris, domande da casa. Allora, c'è una telespettatrice che dice buongiorno, le verdure sbollentate si possono congelare? Per quanto tempo? Lei si chiama Maria, ci segue dalla Basilicata, Bazzana. Sì, è il metodo migliore, nel senso che le verdure, se noi le prendiamo così come sono, le mettiamo nel freezer, abbiamo dei problemi, perché comunque si distruggono quelle che sono le cellule, mentre invece con una leggera scottatura, diciamo manteniamo, preserviamo questo prodotto da quello che è il processo di surgelazione, per cui sicuramente se vogliamo conservare un prodotto e evitare di buttarlo via perché magari non riusciamo a consumarlo immediatamente, una buona alternativa può essere quella di scottarlo e poi metterlo nel freezer. Ecco, Bazzana, le chiedo, ci sono delle eccellenze? Sicuramente ce ne sono di questi ortaggi. Possiamo citare qualcuna delle eccellenze? Perché quelle costano qualcosa in più, ma hanno una sorta di marchio, quindi hanno anche una tipicità del nostro paese. Sì, è chiaro che su tutti questi prodotti noi abbiamo dei riconoscimenti dopo i GP che possono riguardare i pomodori piuttosto che le melanzane, possono riguardare ad esempio gli ortaggi a foglia. Ci sono delle situazioni in cui sicuramente questi vengono riconosciuti e costano qualcosina di più, è chiaro che dipende dal territorio in cui noi ci troviamo. Però c'è da dire una cosa, al di là dei riconoscimenti comunitari, è un'eccellenza unica la produzione di ortaggi nel nostro paese. Quindi laddove noi ci troviamo riusciamo a trovare ortaggi, addirittura ecotipi legati al territorio. Quindi al di là di quelle che sono le varietà più commerciali che magari possiamo trovare in tutta Italia e in tutti i supermercati, la cosa interessante è andare a ricercare la vecchia varietà di pomodoro o di melanzana particolare, che si trova solo in quel territorio perché magari non è molto produttiva, non è molto bella da vedere, ma magari ha un sapore insostituibile. Dottoressa, spesso si parla dell'acido folico. Ormai facciamo tutti quanti le analisi, sta folina, l'acido folico. Negli ortaggi quanto se ne trova? Ce n'è abbastanza. Diciamo che soprattutto le verdure a foglia verde sono le più ricche di tutte. Quindi se noi riusciamo ad accompagnarle, a mangiarle spesso, ma a metterle anche sempre un po' a tavola, siamo ben coperti. Domande da casa? Allora, volevo chiedere a Bazzana, c'è la signora Maria dalla Basilicata che ci ha scritto ancora dicendo conservo le zucchine in frigo, le avvolgo in carta assorbente e poi le metto nel sacchetto di plastica. Le uccido o faccio bene? Forse carta assorbente è un po' eccessivo. Il sacchetto di plastica, ripeto, di per sé potrebbe preservarne perché la zucchina tende a disidratarsi e quindi tende a perdere acqua. Il sacchetto probabilmente sarebbe già sufficiente. Ovviamente attenzione alla condensa. Maris, ancora? Allora, Antonella da Campobasso, insomma, chiede per genitori, per chi non ha più denti, ecco, magari si possono passare le verdure se non perdono le proprietà. In tanti ci chiedono adesso che inizia la bella stagione, uno si vuole preparare per la dentarella. È vero che le carote aiutano? Allora, diciamo che il metodo di cottura che più fa perdere nutrienti è la bollitura, soprattutto se si usa in tanta acqua. Quindi lì disperdo proprio le vitamine, in particolare nell'acqua. Quindi anche passarle in realtà va bene. E le carote, allora, contengono buoni antiossidanti che ci proteggono da danni dei raggi UV. Il problema è che non hanno un effetto booster sulla bronzatura perché il colorito aranciato, che poi ne otteniamo se ne mangiamo tante, in realtà è transitorio. Quindi dovremmo mangiare tantissime carote. Quante carote! Tir di carote a casa! Anche la finisce l'effetto. Beh, vediamo un po' che va bene anche poi vitamina D, il sole, insomma, non dimentichiamo il sole. Chiedo a Bazzana, perché prima ha detto una cosa importante, in un passaggio, ha detto lo spreco. Come evitare lo spreco? Diamo un suggerimento, perché tra poco le persone scenderanno da casa, vanno a fare la spesa, speriamo in un mercato, o in un supermercato, dovunque andranno. Proprio un suggerimento in 30 secondi per evitare lo spreco, quale deve essere? A prescindere dalle zucchine, dalle carote? Il primo suggerimento è quello di portare a casa un prodotto sano. Nel senso che se noi portiamo a casa un prodotto già in partenza bruttino, con dei marciumi, con degli appassimenti, è chiaro che quel prodotto sarà destinato a essere buttato via, perché comunque durerà pochissimo. Quindi noi dobbiamo partire da un prodotto sano, a meno che non ci sia un'offerta di un prodotto già al limite come durata, che vogliamo comunque cucinare immediatamente. Altro aspetto è attenzione, perché comunque le bucce, quelle che possono essere le parti che magari consideriamo scarto, molto spesso possono essere utilizzate per fare un brodo, per fare altre preparazioni. Quindi attenzione al recupero di quelle che sono le parti, perché della verdura non si butta via niente. Questi i consigli di Lorenzo Bagzana, che ringraziamo come sempre, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Grazie alla dottoressa, grazie sempre dottoressa per la presenza dei nostri studi. Giulia Vincenzo, biologa nutrizionista, chiudiamo qui questa puntata, vero Maris? Benissimo, dopo domani però, perché domani è mercoledì l'appuntamento con l'udienza del Santo Padre. Giovedì noi rimianniamo nelle vostre cucine, perché parleremo di colazione, del caffè. Qual è la colazione più adatta? Lo scoprirete insieme a noi giovedì. E cercheremo di capire perché tanti stanno dicendo che è aumentato il prezzo del caffè e aumenterà sempre di più. Cercheremo di capire se è davvero così la tazzina di caffè, che è una tradizione italiana, beh, quanto costerà? Ne parleremo giovedì, come sempre, 10.30. Grazie a tutti quanti voi, buona giornata, anzi serena giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti.